ciao a tutti dal vostro ice e bentornati o benvenuti sul mio canale allora ragazzi andiamo avanti con la campagna a veterano e andiamo avanti proprio da la culla missione qua fatto stagione di caccia poi sono uscito e riparto da qua la culla perfetto direi di andare riavvia veterano vai vai a manetta andiamo cancello via 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 porca puttana porca troia quello con l'rpg stardo da dove allora l'ha preso bastardo quello con l'rpg con l'orea si vede fuori a testo bravo mamme te l'ho risciato è la volta no ancora qualcuno la davanti no è sempre tutto a posto vado al centro no la granata no no un altro no qua no qua troppo vicino qua ok boh sta bene a biannardo da quello io non mi piace tanto la cappa lì un po aspetta aspetta se voi pensate di fare i furbi sono furbi sì sì bacca troia ha tratto sparato la missile brutto bastardo di uno è buon missile qua non so dove sia andato senti va bene c'è chi non ho visto l'rpg e non l'ho visto mica tanto c'era c'era porca troia figlio di bastarda baldracca lurida dammi questo grazie continuate così perché qua quando l'ho fatta la missione nella ram precedente c'era una cassa sopra qua sopra ma non so se c'è ancora va a vedere bastardi non mi da più no bastardi che non ti rimettono più i soldi dentro vi ho visti vi ho visti vi ho visti è morto va bene uuuh cazzo stardo è morto non sono sicuro che sia morto a un altro molto bene morto riprova sarai più fortunato dai metti la piastra dai dai ti è saltata la granata sotto i piedi e non sei morto bastardi fili di puttana guarda puntata c'è ecco tutti miei compagni stanno sparando apriamoci un barco è una bella parola è morto continuiamo ad avanzare e si calma calma giù un attimo ah ecco guarda qua do puttana sto quasi una dalla bastardo infame qualche qualche soldo in giro niente adesso qua il problema è che appunto via lo sapevo io io si l'ho colpito col colo no mi lasciami sino carica carica no scusa marshal scusa scusa ciò ti ho perso il nome e mezz'ora dopo che arrivi puttana uuuu nemici all'interno togliti marshal fatto bravo va bene ogni tanto sei utile perfetto speriamo sia questo a questo e questo questi ce la fanno sudare ma tutto sto ben di dio non c'è neanche un 5 centesimi in giro mamma ha ammassato milioni qua sotto cazzo altro che ho da lì tutto l'oro libero che cazzo è successo qui una cappa di biosicurezza deve essere la dimostrazione che diceva la we e quel contenitore laggiù controlliamo cosa abbiamo la colla pantheon ha una cazzo di arma biologica e l'hanno messa in mano a saddam solo un campione stando a quello che vedo qui cosa hai trovato un dischetto e degli appunti in russo capo progetto matvia i gusiev sembra che tu lo conosca ho sentito il nome era uno scienziato del programma di guerra biologica sovietico biopreparat l'anno scorso è fuggito dalla russia poi è svanito gusiev ha dato un'arma biologica a pantheon no qui risulta che la colla arriva da un'altra parte una struttura di ricerca che conosco americana americana ok l'orario di visita è abbassato ci serve il vostro aiuto quassù dai torniamo su muoviamoci ha avuto qualche volini? non esaltato solo quello che serviva vai vai andiamo andiamo liberiamo una zona per l'estrazione sul tetto del palazzo cioè non ho capito io non ho capito io non ho capito io grazie a che mi avete aiutato ora siete propri veramente inutili ma cosa vuoi lanciare contro guardava molto bene non avevo mai guardato qua di dentro un altro edificio sì ma questo no un giro c'è niente va bene e corrona destra e sinistra ti guarda giacca l'11 elicottero nemico da estremi sul terreno verso di voi ricevuto spaliamo tutto quello che abbiamo qui c'è anche una scotta di altri e e e e e e e e forza restiamo uniti arrivano veicoli da su e ho sparato io a cazzo di un camion non ha saltato in aria ma per favore l'azzo mai carica un cappucana no allora dove 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 da che tiriamo giù questi qua da lo cazzo è da lo cazzo è rpg no rispondo con l'rpg lo cazzo è rpg non che ancora ne appisivano la eh via via sto cazzo ma per favore vaffanculo andiamocene via confermato attacco partito molto bene fatta anche questa ragazzi siamo alla prossima ma noi ci sentiamo nel prossimo video questo finisce qua statemi bene ciao ragazzi grazie a tutti